Archiviata la Vibonese, c'è la Fidelissandria, si riparte insomma. Sì, una squadra ostica, Gagliarda, che viene da moltissimi risultati utili consecutivi, che ha fatto dell'imbattibilità la propria caratteristica. Un gruppo consolidato, su un campo difficilissimo sia dal punto di vista ambientale che proprio dall'approccio tecnico, perché è il loro fortino. Sicuramente là sarà una serata calda con un tifo importante. Dal punto di vista ambientale non ci dobbiamo aspettare nessun tipo di sconto, però io credo che arrivi forse la partita più adatta per dimostrare che quelli di Lecce non sono spariti, ma anzi che una battuta d'arresto è possibile sia dal punto di vista psicologico che dei risultati, però rialzarsi quanto prima possibile deve essere il riscatto di una squadra che ha sempre lavorato bene e ha sempre dimostrato di tenere tantissimi a questi colori. Dopo la partita di sabato scorso hai lavorato ovviamente a stretto contatto con i tuoi giocatori. La speranza, quello che si chiedono, è che non ci siano scorie, soprattutto dal punto di vista mentale di quella battuta d'arresto. Il primo giorno c'era un clima strano, poi pian piano i ragazzi si sono ritrovati, abbiamo lavorato bene con il solito entusiasmo, questa è la cosa che più ci interessa a tutti quanti noi dello staff della Casertana perché poi è l'entusiasmo che ti porta a fare dei risultati e andare oltre le prestazioni auspicabili dai più. Quindi il nostro obiettivo principale era ritrovare l'entusiasmo e l'allegria di venire a fare questo lavoro perché siamo dei fortunati e i ragazzi hanno sempre dimostrato di tenerci tantissimi e di farlo in un clima sereno e disteso. Dispiace per il risultato negativo e la battuta d'arresto però ricredo che sia fisiologico dopo comunque 5-6 partite fatte ad un ottimo livello e c'è subito questa opportunità che si chiama Fidelissandria da cogliere al volo, da non lasciare nulla di intentato per dimostrare ancora una volta se ce ne fosse bisogno che ci siamo, siamo vivi, la squadra vuole raggiungere il risultato salvezza quanto prima possibile. I ragazzi sono pronti per questa sfida, li ho visti con la giusta determinazione e deve essere questa l'arma in più per riuscire a fare un risultato positivo. Finizio e De Marco squalificati, rientra giorno che a sua volta scontata la squalifica sabato scorso contro la Vibonese, idee già ben chiare su quello che potrà essere lo schieramento della tua squadra? Ma sì, ma noi non facciamo mai degli handicap degli assenti, anzi cerchiamo di valorizzare tutti quelli che possono prendere parte alla gara perché poi durante una stagione è fisiologico sia dal punto di vista atletico che da quello delle squalifiche e degli infortuni quindi ci fa piacere che tutti possano partecipare a questa stagione importante di rinascita di riprogrammazione della casertana, faremo con quelli che abbiamo tenendo in considerazione che tutti quelli che hanno preso parte durante questa stagione hanno sempre dato un contributo notevole pari a chi ha avuto più spazio quindi io mi auguro ancora una volta che chi scenderà in campo riuscirà a fare il suo compito andando oltre anche le aspettative proprie così da mettere in difficoltà ancora una volta l'allenatore per la partita successiva dopo aver guadagnato un risultato importante Come con il Lecce ci sorprenderà in termini di 11 iniziale? No, noi cerchiamo sempre di fare le scelte più giuste anche in merito agli avversari sono sicuro che chiunque di loro vada in campo avrà l'approccio giusto quindi da questo punto di vista siamo sereni è chiaro che bisognerà ritornare ad avere una determinazione che per noi è fondamentale per raggiungere prestazioni importanti e poi sicuramente durante la partita ci sarà spazio anche per altri che daranno il loro contributo che ripeto è importantissimo perché tutti quanti gli effettivi hanno dimostrato sia nel periodo di mercato che prima che dopo di essere parte integrante e collante e determinante per questa casertana Ti sei già soffermato brevemente sulla Fidelissandria dal punto di vista tattico questa squadra come va interpretata? Questa è una squadra che difficilmente prende gol che ha fatto della solidità difensiva alla propria peculiarità gioca in casa, ha giocatori consolidati molti dei quali giocano da più di un anno lì un gruppo solido e storico saranno i duelli in mezzo al campo a fare la differenza anche perché voglio dire la determinazione che si applica durante lo scontro dei duelli fisici e tecnici spesso in questa categoria fa la differenza e io veramente sono convinto che i nostri ragazzi possano fare tutto il possibile per riusci portare a casa un risultato importantissimo per la casertana, per loro stessi perché se lo meritano è per i nostri tifosi Battuta scaramantica Fidelissandria che viene da 17 risultati consecutivi Ma io mi auguro che questi ragazzi vi sorprendano ancora perché ne hanno le caratteristiche umane ed emotive e anche tecniche quindi senza speculare sulla scaramanzia siamo fiduciosi di poter fare un'ottima prestazione dalla quale possa derivare un risultato positivo